Ciao e benvenuti nel mio canale Oggi vi parlerò del comportamento che ho riscontrato in molte persone sui social sulle piattaforme sociali quali facebook o vari blog io ho notato che nessuno interpreta per il vero significato che una determinata frase voglia esprimere ma ognuno interpreta secondo una sua visione distorta delle cose quindi se una persona in quel momento è arrabbiata una frase innocua che vuole comunicare qualcosa la percepirà come qualcosa di aggressivo nei suoi confronti quindi risponderà male oppure una persona che è abituata a sentire lamentele prenderà quell'avviso come una lamentela oppure quell'avviso viene preso come un vittimismo e via discorrendo anziché cercare di capire davvero che cosa si vuole dire cercare di davvero essere civili nelle risposte si salta immediatamente a conclusioni troppo affrettate e questo comporta un malumore un malessere difficile da smaltire già la vita non è semplice in più la complichiamo anche su una piattaforma sociale quanto dovrebbe essere il momento di svago di ogni persona perché per me facebook o altre piattaforme sociali rappresentano un momento di svago è molto triste questo perché vuol dire che le persone sono insoddisfatte vuol dire che sono sempre lì a col piede di guerra e non si capisce che bisogna comunque accettare altre visioni bisogna essere tolleranti soprattutto quando si scrive non si può imporre per forza la propria personalità il proprio punto di vista bisogna capire che ognuno di noi ha una scala di valori diversa rispetto agli altri ma molte persone non lo capiscono e sapete perché non li vogliono accettare molte persone perché secondo me ne posso anche sbagliare ovviamente se per una vita sono state costrette ad accettare determinate regole secondo magari anche ingiuste nel momento in cui queste persone vedono che altri fanno quelle cose che loro non hanno potute fare perché magari da ragazzini i genitori hanno prebito certe cose ovviamente non le possono accettare quindi hanno rabbia quindi se una donna all'età di 18 anni non ha potuto andare non ha potuto fare nulla di particolare i genitori i genitori le hanno impedito magari di uscire di andare in discoteca soltanto perché nella loro mentalità era qualcosa di sbagliato che una ragazza di 18 anni andasse in discoteca questa ragazza una buona volta diventata donna quando leggerà su facebook che le ragazze che altre ragazze di oggi vanno in discoteca a 18 anni magari non lo accetteranno e quindi aggrediscono e subito e offenderanno oltremmo è così perché io l'ho noto anche con delle mie amiche delle mie amiche che non potevano uscire da ragazze ma proprio non potevano uscire neanche il sabato potevano uscire solo il pomeriggio dalle dalle 14 cioè dalle dalle 16 fino alle 18 fino alle 20 ovviamente adesso nonostante siano delle trentenni quando vedono che ci sono delle ragazze che a 18 anni vanno in discoteca e non lo accettano perché queste mie amiche hanno dovuto accettare il fatto che uscire il sabato e andare in discoteca fosse sbagliato quindi loro hanno dovuto accettare che questo fosse sbagliato quindi ovviamente è normale che non accettano che ci siano genitori che diano il permesso alle figlie di uscire e io per esempio ero una di quelle che magari a 18 anni usciva perché i miei genitori non vedevano nulla di male nell'uscita il sabato sera quindi bisogna capire che ognuno ha una scala di valori ciò che per una famiglia è una regola ferrea per altre invece non lo è viceversa quindi io credo che bisogna accettare le diversità se si accettano le diversità allora si riesce a convivere in una società ormai etereogenea perché non abbiamo più ogni famiglia degli ideali diversi dei valori diversi e non è che per il fatto che siano diversi siano più buoni o meno buoni degli altri ognuno ha i suoi ognuno ha il suo metodo educativo ognuno ha il suo modo di vivere e così via io che sono una persona che scrive molto su su facebook perché perché mi piace scrivere noto queste cose e mi rendo conto che le ragazze le giovani ragazze dai 17 ai 25 anni sanno rispettare e capiscono quanto una frase è scritta in maniera poetica quindi è una metafora mentre invece molte persone non tutte fortunatamente ma molte persone non riescono non accarpire la metafora e quindi fanno concetture e magari fanno concetture e pensano e pensano che in una frase espressa ci sia qualcosa di cattivo qualcosa di l'osco ci sia un vittimismo oppure una lamentela invece non c'è nulla di tutto questo è semplicemente il piacere di scrivere una frase che può essere carina inoltre a me piace scrivere cose particolari e mi piace usare le parole in maniera assonante proprio per usare termini per usare un cerco musicale cosa vuol dire che magari mi piace dire ora faccio un esempio il mare si spogliò del sole quindi questa è una frase che si può usare solo in una forma poetica di scrittura perché in effetti il mare non si può spogliare magari vuole descrivere un tramonto non vuole dire la fine di un tramonto ti può dire così la frase mi è nata adesso questa frase qui però a me piace scrivere in questo modo usare dei verbi che magari in un tema scolastico il professore te lo può sottolineare perché magari non è il verbo adatto anche se io sinceramente lo ammetto anche nei temi di scuola quando ero a liceo scrivevo queste cose e al professore piacevano molte persone quindi non capiscono che cosa che cosa voglia dire avere la passione per la scrittura è come avere passione per uno strumento musicale è come avere passione per il disegno non si può scrivere per se stessi si deve scrivere per gli altri o altrimenti nessuno leggerebbe più romanzi nessuno leggerebbe più poesie come così allo stesso modo se il pittore facesse quadri solo per se stesso e il musicista componesse musica solo per se stesso nessuno più ascolterebbe musica nessuno più andrebbe ad ascoltare i concerti e nessuno più andrebbe a vedere le mostre d'arte la maggior parte delle persone capisce accetta queste cose solo da i personaggi famosi o da personaggi che fanno questo mestiere ma sapete se uno strempella la chitarra ed è e vuole trasmettere la sua emozione è normale che è insito in lui il desiderio di voler donare quella la sua arte agli altri perché secondo me ogni artista ha questo desiderio è un far emozionare gli altri ed è quello che voglio fare la mia gioia più grande è quella di riuscire a far emozionare le persone sapete perché? perché io quando leggo un romanzo quando leggo una poesia che riesce ad emozionarmi quando guardo una fotografia o un quadro che mi emoziona è il regalo più bello che io potessi ricevere che io possa ricevere non c'è cosa più bella di emozionarsi noi siamo fatte di emozioni che cosa siamo senza emozioni? senza l'emozione c'è l'apatia e che cosa rappresenta un mondo apatico? che cosa? se non è nulla l'apatia è l'assenza di pathos il pathos quella forza dentro di noi che ci fa emozionare apatia privo di ogni emozione la persona apatica si presenta insoddisfatta senza entusiasmo incapace di emozionarsi di ridere di provare amore di provare gioia le emozioni sono tutto nella vita e in questo mondo ormai piatto in questo mondo dove il valore principale non è più la famiglia quindi gli affetti bensì il denaro perché parliamoci chiari al giorno d'oggi senza denaro non si vive magari i primi del novecento senza denaro si viveva perché ognuno aveva la sua campagna e nella campagna ognuno si faceva l'orto e si produceva le cose che gli servivano come anche nei in quei paesi dell'amazzonia c'è una popolazione che vive ancora allo stato operato sono non hanno istruzione eppure vivono vivono di istinti vivono della di natura vanno le proprie vanno a caccia proprio come le persone primitive gli uomini primitivi e beh a volte credo che a livello emotivo stiano meglio di noi perché appunto non hanno nulla non hanno cose materiali e sono felici così non c'è bisogno che debbano avere soldi per vivere devono lavorare sì perché devono andare devono lavorare nei campi devono andare a caccia però non per guadagnare soldi ma per cacciarsi il cibo nella nostra società invece tutto ruota intorno ai soldi e i soldi appiattiscono le emozioni appiattiscono le emozioni perché i soldi danno un entusiasmo iniziale che poi svanisce ma non danno più nulla non sensibilizzano anzi al contrario i soldi tendono a far diventare le persone avare avare di tutto di denaro e di sentimenti i soldi fanno diventare o fanno aumentare l'egoismo purtroppo la nostra società e purtroppo si vive così quindi in questa società riuscire a far emozionare le persone è la cosa più bella che ci possa essere perché la vita è già breve e io vedo troppe persone con lo sguardo spento persone che si sentono sole prive di ogni cosa di ogni emozione persone che non sanno più stupirsi non sanno più sorridere non sorriso di quelli veri di quelli che nasce da dentro e io scrivendo le mie le mie frasi le mie riflessioni i miei stati d'animo le mie poesie i miei racconti io voglio fare emozione alla persona a volte ci riesco e quando ci sono ragazze che mi scrivono in privato e mi ringraziano per le emozioni che ho dato loro a me si riempie il cuore di gioia perché non c'è niente di più bello che riuscire a far emozionare l'emozione le emozioni toccano il cuore e si ricordano per sempre io spero che vi questo video vi abbia fatto un po' rilassare e raccontatemi un po' voi che cos'è per voi un'emozione vi piace quando qualcuno riesce a farvi emozionare scrivetemi ciao